Da domani, giovedì 25 aprile, riapre al pubblico il maschio angioino al termine degli interventi di messa in sicurezza che hanno interessato le facciate interne del cortile. I lavori resi necessari dopo il distacco di una pietra dalla parete prospicente alla biglietteria il 30 marzo scorso sono stati eseguiti con l'ausilio di una piattaforma aerea che ha consentito di raggiungere alta quota per intervenire sulle parti ammalorate a circa 30 metri di altezza. In pochi giorni sono stati asportati e recuperati un centinaio di pezzi in piperno, marmo bianco, tuffo, mattoni e raccolti in tonaci e cemento. Per scongiurare ogni pericolo ed assicurare la riapertura in sicurezza del castello è stata inoltre installata una rete anticaduta calcinacci a protezione dei passanti sulla volta del vestibolo d'ingresso che introduce al sito monumentale. I lavori disposti dal Servizio Cultura e realizzati dai tecnici della Napoli Servizi si sono conclusi oggi e renderanno da domani il maschio angioino nuovamente fruibile al pubblico di turisti e visitatori che affollano la città in questi giorni di festa.